Consolato Minniti, oggi 31 ottobre 2019, nasce il Regino. Consolato Minniti sappiamo essere giornalista di spicco, dobbiamo essere modesti, però della CNews24, e li rimane così come ha specificato, però nello stesso tempo si lancia questo nuovo progetto editoriale che molto probabilmente, se non abbiamo capito male, si interesserà delle notizie locali di Reggio, quindi rafforzerà quella che è la comunicazione locale, a cui noi tanto teniamo e sicuramente sappiamo essere la più importante, a volte anche di quella nazionale. Sì, assolutamente, questo Regino.it ci tengo a sottolinearlo, è una nuova testata che nasce all'interno della classe di Publiem, che edita anche la C, la CTV, la CNews24. L'obiettivo è quello di fare una informazione di iperterritorialità, cosa significa? Cioè essere presente in maniera capillare sul territorio, raccontare Reggio Calabria, farlo in maniera un po' diversa dal solito, e poi andando avanti potremo scoprire tutti quanti come si farà. Lo slogan che stiamo cercando di far passare è quello secondo cui da oggi... Sì, prego. No, da oggi continuo, avviciniamoci lì che c'è il logo, camminiamo da oggi... Sì, da oggi puoi contare su un Regino in più. Perché? Mi piace questo, ripetiamolo, da oggi puoi contare su un Regino in più. Sì, perché sostanzialmente che succede da oggi con il Regino, saranno proprio i Regini i protagonisti di questo giornale, lo costruiremo insieme a loro, lo faremo insieme a loro, ascolteremo i loro suggerimenti, le loro idee, ma soprattutto raccoglieremo le loro istanze, lo faremo attraverso delle inchieste, degli approfondimenti, delle analisi, non soltanto quindi il classico comunicato, il classico articolo, ma soprattutto approfondimento e analisi. Bene, in bocca al lupo, aspetta che così... Ah no, non posso girarlo, ci facciamo il selfie dopo. In bocca al lupo e viva il Regino.